leggende metropolitane luoghi e misteri ad essi collegati sotto gentile concessione degli amministratori del sito storie inspiegabili che trovate in descrizione in questo video mi accingo a raccontarvi questa storia buon ascolto si dice che passando sotto la rocca di nepi ancora si senta un pianto accorato è quello di lucrezia borgia la signora di nepi che ha regnato sulla città a cavallo del xvi secolo questa è la sua triste storia la rocca di borgia è un forte che si erge sul margine occidentale della cittadina di nepi antico borgo falisco vicino a viterbo sorto in epoca etrusca su uno sperone di tufo di forma triangolare ed ha un'affascinante storia millenaria intorno all'undicesimo secolo venne edificata una torre a pianta quadrata a scopo difensivo mentre nel secolo successivo dopo la proclamazione di nepi al libero comune si costruì un'altra torre a base trapezoidale che serviva da torre di avvistamento infine ne venne retta una terza al di sopra dell'antica porta romana sulla via amerina e il castello assunse quindi una forma poligonale con tre torri poste sul vertice ovest est e nord est collegate da un camminamento di ronda ma è nel quindicesimo secolo quando nepi passò nelle mani della famiglia borgia che la rocca il castello crebbero di importanza e assunsero la configurazione odierna la nomina del cardinale rodrigo borgia a governatore di nepi inaugurò un periodo di grandi lavori affidati al noto architetto antonio da sangallo il vecchio che in quegli anni stava realizzando anche la rocca di civita castellana le ristrutturazioni ampliarono la rocca e ne migliorarono sia la funzione difensiva che con il passare degli anni era passata in secondo piano ma soprattutto quella residenziale quando nel 1492 il cardinale rodrigo borgia venne eletto pontefice con il nome di alessandro sesto nepi fu ceduta al cardinale ascanio sforza in cambio di appoggi politici ma con i borgia nessuna situazione è destinata a durare infatti nel 1949 a seguito dell'invasione francese a milano alessandro sesto tolse nepi ad ascanio sforza e la affidò alla figlia illegittima lucrezia lucrezia borgia fu signora di nepi dal 1499 al 1501 ducato che le venne assegnato dal papa dopo l'uccisione del marito alfonso d'aragona per trascorrere un periodo di lutto altri sostengono che l'assegnazione del ducato fu fatta per inquietare ogni possibile astio con il padre e con il fratello cesare lucrezia non fu affatto la spietata avvelenatrice passata la storia probabilmente a causa dell'omonima tragedia lucrezia borgia di victor hugo ma dapprima una sorta di pedina matrimoniale più o meno consenziente per le ambizioni politiche di famiglia poi una triste donna resa vedova da una congiura organizzata dal fratello cesare il duca valentino che ha ispirato il principe di macchiavelli qualcuno infatti ancora oggi sostiene che passando sotto il forte si possa sentire il pianto straziante di lucrezia a cui il fratello cesare portò via il marito qualcun altro giure di aver visto il suo fantasma la storia sembrerebbe terminare qui ma non è così il 30 dicembre del 1501 la donna appena 21enne si sposò per procura con il terzo marito alfonso primo d'este primo genito del duca ercole primo di ferrara e lì si trasferì nel febbraio del 1502 dove morì il 24 giugno del 1519 aveva 39 anni la presenza dello spettro di lucrezia è stata avvertita da almeno una dozzina di testimoni anche nel castello estense molti riferiscono di aver visto il fantasma della donna a girarsi per i corridoi del castello di ferrara sono state raccolte testimonianze di avvistamenti di lucrezia già nel 2012 i testimoni avrebbero giurato di aver visto sia uno spettro visibile dalla vita in su altri invece una figura intera questa cosa risulta quasi impossibile da credere e sono stati fatti dei rilevamenti nel 2016 ma senza ottenere risultati soddisfacenti